Ci si recava presso il centro medico di Bardonecchia per l'assistenza a seguito di un infortunio e dietro suggerimento del direttore sanitario, l'infortunato, chi per esso, si recava presso gli uffici della società che gestisce gli impianti di risalita dove acquistava uno schipassa a prezzo minimo coperto da assicurazione e in tal modo veniva aperto il sinistro. Ma le indagini condotte dalla Guardia di Finanza hanno svelato come non risultassero passaggi ai tornelli delle persone che poi si dichiaravano infortunate o che addirittura l'infortunio risultava avvenuto in una data diversa rispetto a quella dell'acquisto dello schipass, fino ad arrivare alla creazione di sinistri ad insaputa delle stesse vittime. Gli incidenti per la maggior parte erano reali ma in molti casi non coperti da assicurazione o addirittura non avvenuti sulle piste da sci. Lo scopo della truffa era dunque quello di ottenere il risarcimento dell'assicurazione a copertura dei costi per le prestazioni mediche. Due medici del centro sanitario indagati dai finanzieri per frode all'assicurazione e 28 le persone denunciate per lo stesso reato.